Salve a tutti ragazzi, sono Marco95 questo è un video informativo sono riuscito a sistemare il computer però perdendo molti dati tra cui anche tutto quello che avevo fatto per voi su Minecraft sono andato l'altro giorno a riscaricarmelo per ricominciare a fare i video però una volta scaricato quando do il doppio clic per aprirlo enter game però diventa tutto nero e dopo un po' di tempo mi vengono fuori delle scritte che praticamente mi dicono che ho ecco qui, bad video card drivers quindi chiedo a voi se mi potevate dare dei link sicuri per poter scaricare i driver da internet il computer mio è un Acer portatile del 2007 e casomai se avete bisogno di più dettagli per quanto riguarda il computer magari ve li metto in descrizione sotto così insomma vi saluto da Marco95 è tutto al prossimo video ciao a tutti